Il conto alla rovescia per Bari Avellino entra nel vivo. Domenica alle 17.30 i bianco-verdi saranno impegnati al San Nicola nella gara valevole per la quinta giornata riandata di Serie B. Sarà un duro banco di prova non solo per l'oggettivo valore della rosa degli avversari ma anche perché dopo il 4-1 incassato dai pugliesi a Crotone, il tecnico dei galletti Davide Nicola è stato bersagliato da una serie di critiche per la gestione del match. Un pesante KO, quello rimediato all'uscida, che è andato a sommarsi ad un inizio di stagione tutt'altro che esaltante. Una sola vittoria, due pareggi e una sconfitta e l'allenatore è già finito sul banco degli imputati. Da par suo l'Avellino vuole raccogliere quanto di buono sta seminando, soprattutto in termini di produzione offensiva, magari sfruttando proprio il momento di difficoltà dei prossimi dirimpettai e confida in qualche buona notizia dall'infermeria. Anche questo pomeriggio, unica seduta di allenamento pomeridiana a porte chiuse a Torretta di Mercogliano. Ieri terapie e lavoro differenziato per D'Angelo, che sta recuperando dalla contusione al vasto mediale della coscia destra, così come per Rea, a causa di un'infiammazione al quadricipite sinistro. Gavazzi ha proseguito con le cure per guarire dall'elongazione al bicipite femorale sinistro, mentre Schiavon, alle prese con una distorsione alla caviglia, ha svolto lavoro differenziato. E proprio intorno al futuro del centrocampista, in scadenza e ormai margini del progetto tecnico, ci potrebbero essere imminenti novità. Un caviglio legato al diritto del lavoro potrebbe permettergli di inoltrare una domanda al presidente della FIGC, Carlo Tavecchio, per ottenere l'autorizzazione al trasferimento alla SPAL, che per lui ha pronto un biennale. In tal caso, firmata la rescissione consensuale con l'Avellino, non ci sarebbe da attendere il primo gennaio. Una vicenda che ha un precedente, quello dell'attaccante Fabio Mazzeo, che risolse il suo rapporto con il Perugia, a mercato chiuso per sposare la causa del benevento. La prossima potrebbe essere la settimana decisiva.